Milano Fashion Week, primavera estate 2011, è la volta della stilista più acclamata e anche la più attesa. Vivian Westwood, rimano qui un suo gadget, la presentazione della sua collezione, tutto è molto curato. La mia collezione è molto manic, è pieno di energia, è burningo. E' come, le fabriки sono così iridescenti, glinti e glitteri. Ci sono molti cacchi, sposti e strani cose, grafici che sono tutti cuti in pezzi. Ci sono colori sui e tutto ciò che è stato fatto a te. La mia collezione è molto globale, tutto il mondo, in questa collezione, ma il mondo è come un mirro, è tutto fragmente. E io mi ricordo, siamo una specie indagere, stiamo distruttando il nostro planeto, non potremo vivere in quanto riguarda. E io mi ricordo, siamo una specie indagere, stiamo distruttando il nostro planeto, non potremo vivere in quanto riguarda. E io mi ricordo, perché siamo una specie indagere, il mondo non ha mai fatto nulla cosa come noi. Possiamo fare le cose incredibili e creativi, siamo molto simpatici con l'unica, possiamo essere così gentili e bellissimi. Nessun animali può essere così, ovviamente siamo più destruttivi che altro altro. Ma io domani se siamo solo il prodotto di l'unica, in tutti i anni di storia, abbiamo fatto un po' di noi, e proprio come un star al fine di un'unica, si è più brillante e brillante, magari stiamo stagando brillante e brillante. Ho spero che questa energia è ottimizzata, e che possiamo fare qualcosa per salvare. Anyway, that's what I'm talking about. I'm talking about climate change. I'm talking about climate change. I'm talking about climate change. And he comes to life, automatic joy. That is why I want a coin-operated boy. Made of plastic and elastic. He is rugged and long-lasting. Who could ever, ever ask for more? Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti